Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi del controller GameSeer T4 Pro. Un controller davvero fantastico. Ci sono rimasto sinceramente perché ne ho provati tantissimi di controller. Premetto che GameSeer fa sempre controller di qualità. Però, diciamo, questo controller mi ha davvero stupito perché funziona davvero su molti sistemi. A volte scrivono tipo Android, iOS, Apple, Switch, eccetera, poi vai a provare il controller sulle varie piattaforme e non funziona. Invece questo controller effettivamente funziona. L'ho provato sulle piattaforme menzionate e funziona. Il controller è per Android, per iOS, per Mac, per Windows e per Nintendo Switch e funziona su tutte le piattaforme. È davvero fantastico. Ero alla ricerca di un controller per l'iPad, per giocare con i titoli Apple Arcade e vi posso assicurare che funziona perfettamente. Comunque, bando alle ciance e vediamo il controller. Il controller è questo, come potete vedere è fantastico. Si illumina, come vedete, da un lato. Avrei optato per un'illuminazione generica, però GameSeer solitamente rende luminosi solo i tasti X, A, B, Y e a volte anche lo stick analogico destro. Il sinistro no. Diciamo, questa è un'impostazione di GameSeer. Ci sono altri controller di GameSeer che hanno proprio questa caratteristica. Il controller è davvero comodo nell'impugnatura ed è molto simile a quello della Xbox One. Adesso ve lo mostro. Togliete, ovviamente, escludete questo. Però ha un'impostazione, diciamo, molto simile, anche se ha l'aggiunta di diversi tasti. Inoltre, ovviamente, questo tasto non può essere premuto, a differenza di altri controller GameSeer che presentano il tasto, appunto, che può essere premuto. In questo caso, no. Il controller ha una superficie ruvida, ai lati, qui, dove, diciamo, si afferra, per mantenere l'impugnatura solida. È estremamente comodo. La caratteristica di questo controller risiede nella presenza di questi, praticamente. Queste due levette, che poi lo ha anche questo controller, come vedete. Ed è una caratteristica che vi permette di premere uno di questi tasti direttamente con queste dita. Quindi, mentre impugnate il controller, magari siete impegnati a spostare telecamera e personaggio, con queste dita, senza che spostate il dito dallo stick analogico a questi pulsanti, potete direttamente, con la pressione di questi tasti qui, compiere diverse azioni, il che è estremamente comodo. Il controller, come potete vedere, ha i classici tasti di un controller Xbox, con tanto di dorsali superiori e anteriori, che sono morbidissimi da premere, davvero comodi. Appena ho tolto il controller dalla confezione, ho notato questa parte e dicevo Ma, che tipo di attacco è? Perché non avevo notato l'USB, praticamente. E avevo notato queste incalanature, praticamente. Ed è quel tipo di attacco estero, no? Invece è USB, quindi potete collegarlo via USB. Ora, il controller funziona in molti modi. Allora, via USB, quindi collegando questo cavo al computer, via dongle, diciamo USB, che collegandolo al vostro computer potete utilizzarlo via Wi-Fi, e attraverso il Bluetooth. Ed è questa, diciamo, la caratteristica chiave del controller. Perché se tenete premuto X e Home insieme, abilitate il controller via Bluetooth per l'utilizzo su Windows. Se premete Y più Home su Nintendo Switch, se premete B più Home su Apple Arcade, quindi iPad, iPhone, iOS praticamente. Supporta Android, supporta Mac, Windows, Nintendo Switch, iOS, cioè praticamente, tranne PS4 e Xbox One, funziona su tutte le piattaforme principali. Quindi se siete alla ricerca di un controller per giocare con il vostro iPad, con il vostro iPhone, smartphone o tablet Android, Smart TV Android, Windows, Mac, questo controller è davvero eccezionale. Fa davvero al caso vostro. Come funziona il pairing via Bluetooth? Praticamente, come vi ho detto, mantenendo premuto il pulsante più Home, ovviamente le istruzioni sono riportate nell'apposito libretto che trovate nella confezione, il controller inizierà a lampeggiare, e quindi potete poi associarlo al dispositivo che avete scelto. La particolarità interessante del controller risiede nel fatto che viene visto come un controller Xbox. Infatti, se prendete l'iPad e effettuate il pairing, quando andate via Bluetooth sull'iPad, viene visto come un controller Xbox. Per questo motivo, nei giochi Apple Arcade funziona alla grande. Infatti dicevo, ma il controller Xbox è spento, com'è possibile? E invece è proprio questo. Non viene visto come un controller GameSeer, ma come un controller Xbox, perché l'iPad si rifiuta di accettare altri controller che non siano quello Xbox per quanto riguarda l'Apple Arcade. Quindi, diciamo, funziona davvero bene. Ottima impugnatura, eccezionale. Cioè, un controller che vi consiglio assolutamente di acquistare e che ovviamente trovate su Amazon.